Ora, mentre conterò fino a tre, solleverò le mie spalle lungo il collo. Le solleverò con tutte le mie forze e rigidendo al massimo i muscoli. Comincio. Uno, sollevo le spalle. Due, sollevo ancora di più. Tre, le spalle sono rigide, ben parallele al collo. Quattro, comincio a distenderle. Cinque, le lascio andare ancora di più. Sei, abbandono del tutto le mie spalle. Ora, mentre conterò fino a tre, solleverò le spalle e una volta sollevate le porterò prima in avanti e poi all'indietro. Comincio. Uno, sollevo. Due, sollevo ancora di più. Tre, le spalle sono ben sollevate e rigide. Ora, sempre spingendo, porterò le spalle in avanti, completamente in avanti, spingendo con tutte le mie forze. Ora, mantenendo sempre l'attenzione, porterò le spalle all'indietro, inarcandole completamente e spingendo all'indietro con tutte le mie forze. Quattro, ritorno alla posizione normale. Cinque, comincio a rilassare le spalle. Sei, rilasso completamente le mie spalle. Ora, mentre conterò fino a tre, piegherò la testa, cercando di schiacciare il mento contro il petto. Comincio. Uno, piego la mia testa in avanti. Due, la piego ancora di più. Tre, premo il mento contro il petto con tutta la mia forza. Mantengo ancora lo stato di tensione. Quattro, comincio a distendere i muscoli del collo. Cinque, mi lascio andare ancora di più. Riporto indietro la mia testa. Sei, abbandono del tutto la testa. Ora, mentre conterò fino a tre, porterò la testa indietro sulle mie spalle, ruotandola prima a destra e poi a sinistra. Comincio. Uno, porto indietro la testa, schiacciandola all'indietro. Due, la schiaccio ancora di più. Tre, schiaccio la testa con tutta la mia forza. Ora, ruoto la testa verso destra, spingendola con tutta la mia forza. Ed ora, la ruoto verso sinistra, spingendola con tutta la mia forza. Riporto la testa nella posizione iniziale e comincio a rilassarmi. Quattro, cinque, sei. Abbandono del tutto i muscoli del collo e del cavo. Faccio un respiro profondo e completo. Profondo e completo. E mentre respiro mi lascio andare sempre di più, sempre di più. E sento i miei muscoli che si abbandonano sempre di più, in un stato di crescente distensione, calma. Distensione calma che si sta realizzando dentro di me. Mi soffermerò ora a percepire il mio respiro, che è leggero, calmo e regolare. Il mio respiro è leggero, calmo e regolare. Il mio respiro è leggero, calmo e regolare. Ora, mentre conterò fino a tre, farò un'ispirazione profonda e completa. Tratterrompo il respiro e quando conterò, quattro, cinque, sei, espirerò altrettanto profondamente. Comincio. Uno, ispiro. Due, ispiro ancora. Tre, raggiungo la mia ispirazione massima. Trattengo ancora per un attimo. Quattro, comincio ad ispirare. Cinque, inizio a buttare fuori l'aria. Sei, ispiro completamente. Ed ora ripeto un'altra ispirazione. Uno, due, tre. Raggiungo la massima ispirazione. Trattengo il respiro. Quattro, comincio ad ispirare. Cinque, butto fuori tutta l'aria. Sei, ispiro completamente. E adesso passo ad una respirazione normale, calma e regolare. Una respirazione normale, calma e regolare. Mi posso lasciare andare. Mi abbandono sempre di più. Ed il mio corpo si sta facendo sempre più disteso. Sempre più disteso. Sempre più disteso. Ed ora, mentre conterò fino a tre, irrigiderò al massimo tutti i muscoli dell'addome. Voglio tendere il mio addome con tutte le mie forze. Comincio. Uno, due. Irrigidisco ancora di più il mio addome. Tre. Il mio addome è duro, rigido. Mantengo lo stato di tensione. Quattro. Comincio a distendere. Cinque. Sei. Abbandono del tutto il mio addome. Ripeto. Uno, due. Irrigidisco bene i muscoli dell'addome con tutta la mia forza. Tre. Mantengo lo stato di tensione. Quattro. Comincio a distendere l'addome. Cinque. Lascio andare ancora di più. Sei. Abbandono completamente tutti i muscoli addominali. Ora, mentre conterò fino a tre, tirerò in dentro lo stomaco. Comincio. Uno, due. Tiro in dentro il mio stomaco. Tre. Lo stomaco è tirato in dentro con tutta la mia forza. Mantengo lo stato di tensione. Quattro. Comincio a distendere il mio stomaco. Cinque. Lo lascio andare ancora di più. Sei. Abbandono del tutto il mio stomaco. Ripeto. Tiro in dentro lo stomaco. Due. Lo tiro ancora di più. Tre. Trettengo in dentro lo stomaco con tutta la mia forza. Quattro. Comincio a distenderlo. Cinque. Lo lascio andare ancora di più. Sei. Abbandono del tutto i muscoli dello stomaco. Ora, mentre conterò fino a tre, inarcherò la schiena con tutte le mie forze. Inarco la schiena, sollevandola un poco. Comincio. Uno, due. Inarco ancora di più. Tre. Mantengo lo stato di tensione ancora per un attimo. La mia schiena è ben inarcata. Quattro. Comincio a distendere. Cinque. La lascio andare ancora di più. Abbandono del tutto la mia schiena. Ripeto. Uno. Solleve ed inarco la schiena. Due. Ancora di più. Tre. Mantengo lo stato di tensione ancora per un attimo. Quattro. Comincio a distendere la schiena. Cinque. La lascio andare ancora di più. Sei. Abbandono del tutto i muscoli della schiena e quelli di tutto il tronco e degli arti superiori. Faccio un profondo e completo respiro e sento i miei muscoli distendersi. Mi sto rilassando sempre più profondamente. Sempre più profondamente. tutto il mio corpo si sta facendo sempre più pesante. pesante. Piacevolmente pesante perché tutti i miei muscoli sono profondamente rilassati. ed ora, mentre conterò fino a tre, irrigiderò al massimo i muscoli delle natiche e delle cosce, spingendo con tutta la mia forza verso il basso i talloni e portando in alto la punta dei piedi. Comincio. Uno. Spingo forte i talloni verso terra. Porto la punta dei piedi in alto. Due. Irrigidisco ancora di più i muscoli delle cosce e delle natiche. Tre. Mantengo lo stato di tensione. Quattro. Comincio a distendere le cosce. Cinque. Le rilasso sempre di più. Sei. Le abbandono del tutto. Ripeto l'esercizio. Uno. Spingo in basso i talloni. Porto in alto la punta dei piedi. Due. Spingo ancora di più. Irrigidisco le cosce con tutta la mia forza. Quattro. Comincio a distenderle. Cinque. Le lascio andare sempre di più. Sei. Le abbandono del tutto. Faccio due respiri profondi e completi. Profondi e completi. Sento che tutto quanto il mio corpo è completamente rilassato. Tutti i muscoli sono distesi. E per questo il mio corpo si sta facendo sempre più pesante. Sempre più pesante. Piacevolmente pesante. Ed io sono calmo e disteso. Sono calmo e disteso. Sono calmo e disteso. Ora rimango a godere di questo stato profondo di calma e di distensione per alcuni minuti. Dopodiché potrò riaprire gli occhi e riascoltare i rumori intorno. Potrò riprendere il contatto con l'esterno. con l'esterno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.